Floridia, Movimento Civico e Dea, primo gruppo consigliare in provincia formato da sole donne. Elena Leotta, Barbara Di Mauro, Giussi Garofolo e Marieva Paparella, i volti femminili dell'amministrazione del Floridia guidata dal sindaco Marco Carianni, hanno scelto di costituire un nuovo gruppo all'interno del Consiglio Comunale. Il primo tra i civici consessi dei 21 comuni della provincia seracusana a essere formato solo da donne. Nel corso dell'ultima assemblea di IDEA, Movimento Politico nato nei mesi scorsi, è già radicato se a livello provinciale e regionale. Le quattro consigliere comunali hanno scelto di aderire al nuovo progetto e creare il gruppo. Occorre rimettere al centro la forza e l'energia delle donne, ha detto Tiziano Spada, coordinatore provinciale di IDEA. Dal giorno in cui l'amministrazione Carianni si è insediata, le consigliere hanno intrapreso azioni importanti per risolvere le diverse problematiche che riguardano il territorio floridiano. Azioni che si sono contraddistinte per l'efficacia e per il coraggio dimostrato, permettendo a Elena, Barbara, Giuse e Maieva di diventare punti di riferimento per una comunità che ha affidato loro le istanze e le speranze. Vogliamo sfatare il mito per cui la politica debba essere appannaggio di sole uomini mettendo al centro le donne. La speranza per il futuro è di riuscire, grazie all'incessante impegno del sindaco Marco Carianni e di tutta l'amministrazione, a ripristinare le nostre tradizioni e connotare la vocazione del nostro territorio che ha un potenziale enorme, meritevole, di essere valorizzato.